vai cristiano beppe davanti andai a bordo vai siamo qui è buono volete nevarvi? dovete andare a piano per forza madonna lo vedo è ancora in piedi? grande Cri ma guarda dove è passato non ci credo destra ma non ci credo ma hai visto dove è passato Marco? no poi te lo faccio vedere qui ah come mi piace questa guida pilotata vediamo chi c'è dietro la mia moglie oh io no 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 All right.